Cari amici, a parte l'allarme rompiscatole che ormai vicino casa qui nella piazzuola rompe appunto le scatolette per sempre, volevo dire per ben tre volte, vergogna, vergogna, vergogna alla WWE. Allora, io mi esprimo sempre in maniera gentile, educata, o come si dice in termini più tecnici, edulcorata, però penso che chi ha a cuore, oltre una federazione come la WWE e uno show come SmackDown, vedere che è una puntata, appunto in questo caso del mio show, da sempre preferito, da sempre guardato, finire in una maniera, vi devo dire, veramente sconvolgente, anzi io direi abbastanza irrispettosa ed ineducata, perché adesso vi faccio un po' la disamina, praticamente avevamo nel match di chiusura della puntata della scorsa notte, registrata qualche giorno fa, ovviamente al Performance Center di Orlando, con l'accompagnamento di Sonya Deville, ovviamente Sonya Deville presente in chiave rivalità con Mandy Rose, dopo l'attacco brutale alla Mandy settimana scorsa. Il discorso è questo, la contesa, tutto bene, ad un certo punto arriva Mandy Rose, che si vendica di Sonya Deville, poi addirittura c'è uno stacco pubblicitario, si fa finire nel backstage, dopodiché, a pochi minuti dalla fine della puntata, viene scombussolato tutto, una banda di mascherati e poi di... non riesco ad avere neanche il termine giusto per definirli, perché il video, ripeto, ma per fortuna non c'è sangue nel video, per fortuna, ma il discorso è questo, presentarsi a modi rabinatori, mettiamola così, dove praticamente sono scappati tutti, i ragazzi del Performance Center, Michael Cole, Corey Graves, ma la cosa che mi ha fatto più male, e che credo abbia fatto più male a chiunque, è oltre andare con degli spray a rovinare proprio gli spazi del plexiglass e del nome SmackDown, ma la cosa più grave, che appunto ha ferito me personalmente, è stato il fatto di tagliare con una motosega le tre corde, e quindi di non avere più effettivamente un ring, allora io ora mi chiedo, e chiedo alla WWE, con tutto l'accaduto degli Stati Uniti in questi mesi, razzismo, non razzismo, rispetto di qui, di lì, la WWE stessa, che è comunque un prodotto aperto a tutti, per famiglie, perché si sente il bisogno, se c'è il bisogno di far debuttare una nuova squadra di combattenti, farli debuttare, e sono misteriosi al momento i combattenti, in questa maniera volgare, irrispettosa e maleducata, quindi io, seppure con doni pacifici, sono indignato ed irritato proprio in maniera, in forte maniera, perché una puntata di uno show, che praticamente dall'anno scorso, dagli ultimi mesi del 2019, che è passata su Fox degli Stati Uniti, e viene considerato quindi ad oggi lo show numero uno della WWE, quindi Raw è passato in secondo piano, diciamo, ma io non sono d'accordo, e penso che gli abbia dato il consenso per queste azioni, a questa squadra misteriosa, che comunque già Raw hanno combinato, hanno fatto, hanno combinato i loro guai, quindi io mi chiedo, cara WWE, tu se agisci in una certa maniera, puoi perdere degli appassionati, ma soprattutto, se le scene che si sono viste a SmackDown, negli ultimi 5-6 minuti, le vedesse un bambino, un ragazzino con la famiglia a casa, che cosa ne potrebbe pensare? Cioè, qui ragazzi, scherziamo noi, ma con questi gesti, di questa squadra misteriosa, tra cui credo ci siano uomini e donne, qui può nascere uno scandalo negli Stati Uniti, come a dire, la prima federazione al mondo di wrestling, che fa vedere queste cose in tv, nonostante la pandemia, nonostante tutto quello che sia successo in America, nonostante tutto, quindi, io, come ho detto già all'inizio, grido vergogna, per tre, ma anche per dieci volte, la WWE, non si fa così, spero vivamente, che soprattutto gli americani, i tifosi americani, si facciano sentire sui social, io, diciamo, non, non capisco molto l'inglese, anche se l'ho studiato a scuola, ma, ripeto, non si agisce in quella maniera, e poi, aspettiamo, eh, che, voglio dire, non si era in un'arena, cioè, figuriamoci, se si era in un'arena con, con tantissimi fan al seguito, quindi, io, queste cose, non, le guardo con molta attenzione, e questa volta, secondo me, la WWE, Vince McMahon, e tutti coloro che hanno, che hanno permesso, questa cosa qui, hanno esagerato, ma, centomila volte, quindi, ripeto, spero che trovino un'altra piega, a questa squadra, che magari dovrebbe debuttare, io capisco che ci sono, tantissime difficoltà, spero che ci sono, spero che ci si può mettere in difficoltà altrettanto una nazione, che è già per il prezzo che sta pagando per il covid, e ci possono essere tante ripercussioni, spero che chi vuole vedere questo video, se lo vuole condividere, ma, ripeto, raccontare le storie va bene, ma raccontare le storie a gente, in una certa maniera, come vi ho spiegato, questo no, certo, ci sono federazioni, che non hanno un prodotto familiare, che fanno esagerazioni, ma lì poi sta a un appassionato decidere, no, non la seguo, siccome, penso che comunque, i tempi, del, combattimento, sanguinolenti, degli anni 80, 90 dovrebbe essere finito, anche se vi ho detto, qui non c'è stato sangue, ma, secondo me, c'è stata un'offesa alla disciplina, al wrestling, staremo a vedere cosa succederà, sarò curioso anch'io, ciao a tutti, alla prossima di nuovo, vergogna, 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 WWE a SmackDown, ciao a tutti, alla prossima,